Giovedì 9 alle ore 21 al Teatro Rosso di San Secondo, in scena Resital di e con Gianfranco Iannuzzo, uno spettacolo che raccoglie cavalli di battaglia e alcuni brani inediti con i quali Iannuzzo racconterà le contraddizioni di una Sicilia allegra e amara, spensierata e triste, meravigliosa e spietata, solare e introversa, indolente e attiva. Un racconto che mira allo straordinario senso dell'umorismo degli italiani che sanno ridere di tutto e di tutti, ma soprattutto è ancora più importante di se stessi. I miei amici Alessandra Falci e Michele Primiterra organizzano una bella serata. Porterò il mio Resital, è un spettacolo a cui tengo molto perché ogni tanto ho bisogno di cimentarmi da solo con il pubblico, c'è sempre qualcosa di nuovo, è uno spettacolo che amo molto e io chiamo ancora il teatro con il teatro Bofremont, si chiama il teatro Rosso di San Secondo. Vi prometto che ce la metterò tutta per intrattenervi e divertirvi e a presto amici miei misseni carissimi. Ciao! Ciao! Ciao!